Nuovo piano per le aree verdi a terra nuova nel centro e nelle frazioni, presto il via alla ripiantumazione di essenze ma anche alla rimozione di quelle che non sono stabili nei giardini con la scelta di nuove specie in grado di garantire maggiore resistenza alle intemperie. Ci tengo a sottolineare che andremo a sostituire quindi a mettere a dimora nuove alberature nella zona del plesso scolastio e dei giardini di Pernina dove circa all'inizio dell'estate fu tolto e furono abbattute i pini e anche altre piante che non erano in sicurezza statia. Quindi appunto collocheremo nuove piante per un importo di circa 8-9 mila euro. Nella fattispecie saranno lecce, magnole, alcuni ipocastani e querce rosse. Successivamente faremo un intervento appunto di potatura e soprattutto nelle zone lungo l'asta del Ciuffenna dove ci sono dei pioppi che ormai hanno raggiunto altezze importanti e 10 circa sono proprio da abbattere perché non sono più in sicurezza perché sono tutti diciamo pendenti. Sono previsti interventi anche per i lecci storici nelle frazioni di Campo Giallo e Traiana mentre anche Valle Europa recupererà con dei tigli l'ombra perduta dopo i recenti tagli. Tutto questo comprensivo anche di interventi faremo in altre zone di Paperina e Pernina su dei tigli che sono fronte strada che creano problemi sia per l'avviabilità veicolare che pedonale. Tutto questo appunto ricevo per un intervento complessivo che ammonta circa 60.000 euro di quadro economico.